Qual è l'ultima cosa che hai fatto l'altra sera? E che serve tutto? Perché io sto qua? Perché è nato un trattamento sanitario obbligatorio. Ti vuol dire che io non posso uscire da qua? Eh no, se no non si chiamava obbligatorio. Io sono Gianluca e sono vergine. Quello è Mario. Lui è Alessandro. Madonna, madonnina l'hai già conosciuta. Chi è questo? Si chiama Giorgio. È al quarto DSO. Al quinto gli regali non viaggia a Escelle. Io non c'entro niente in questo posto. Qua ci stanno i matti. Vedi io qua non ce li mando. Non fa così. Sette giorni passano presto, che bollessia. Pazzola mia roba. Come va a mangiare giù sta roba? Chiudi gli occhi. dai una cucchiaiata e pensi alla carbonara. Mi sa che con me non funziona. Serto che questo posto me lo immaginavo un pochino meglio. Sì. E fatti perché te sei qua dentro. Infermiera! di libertà e andare un passo più avanti essere sempre vero spiegare cosa è il colore a chi vede bianco e nero tre, due, uno che sceglie sempre e promessi domani a tutti parlerai di me. C'è questa cosa di te che mi fa incazzare. Che? Che mi fa ridere. Forse i miei compagni di stanza sono la cosa più simile alla mia vera natura che mi sia mai capitato di incontrare. Tu per me. Per i pazzi di tutti i tempi ingoiati dai manicomi della storia Sanzezza. C'hai vent'anni ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi a tutti i tempi